a Cipinella arriva un'altra vittoria in trasferta partenza soft ma poi una menzana che ha dominato abbiamo gestito anche oggi i minutaggi la partita ce l'ha permesso devo dire che questo periodo intenso per noi è stato anche un po' facilitato dalle condizioni degli avversari per cui abbiamo potuto un po' sfruttare questa condizione oggi abbiamo fatto in modo che tutti avessero campo il più possibile per noi era un momento di grande fatica mentale e fisica le energie stavano ovviamente mancando gradualmente adesso non vediamo l'ora di avere un paio di giorni di riposo pieni che non ci capitava ormai da prima della sosta natalizia e poi ci prepariamo ad affrontare una partita difficile sarà quella con l'Aurenziano è vero sabato prossimo sarà una gara intensa con la Laurenziana che sta veleggiando nelle parti alte della classifica tornando alla gara di oggi era un invictus piuttosto diversa da quella che era venuta a Siena ha cambiato faccia e si è visto anche sul campo qualche difficoltà in più beh loro erano una squadra diversa nella partita di andata avevano due tre assenze oggi avevano due tre assenze lo stesso peraltro molto simile all'andata ma hanno messo in campo una squadra integrata dai ragazzi dell'anno e 19 eccellenza di grande energia di grande intensità di grande abnegazione noi abbiamo avuto un inizio un po' soft poi ci siamo ripresi tra fine primo quarto inizio del secondo e poi ci siamo messi in controllo e questo mi ha permesso di ruotare però un applauso a loro per l'atteggiamento che hanno avuto per tutta la partita in vista del dell'impegno importante contro la Laurenziana sabato prossimo sei soddisfatto del recupero di praticamente tutti gli effettivi se scudiamo Giorgi soprattutto nell'aver ripreso quello che sembra fuori quel ritmo quella capacità di lettura e di produrre tantissimo all'interno del match come abbiamo visto sempre fino alla sosta natalizia per la tra la squadra sì sono molto soddisfatto perché come dicevo già in altre occasioni giocare molto e allenarci poco per le abitudini di una squadra di scissilver è sempre molto difficile per cui sì siamo tornati abbastanza sui nostri standard dopo un fine dicembre un inizio gennaio difficile adesso abbiamo recuperato alcuni piccoli infortuni che anche oggi abbiamo verificato gestito quindi penso che si possa fare finalmente una settimana piena di lavoro in cui gestire le energie in cui programmare un lavoro più tradizionale più consueto e più di abitudine anche dei giocatori per cui penso che abbiamo affrontato questo periodo molto bene e adesso abbiamo una situazione facilitata torniamo su abitudini nostre consolidate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti